Ben trovati alla terza edizione del TG6 a Onna, frazione simbolo del tragico sisma. E' stata inaugurata la restaurata chiesa di San Pietro Apostolo, distrutta dal sisma. Il lavoro è stato finanziato dal governo tedesco. Germana Dorazio. Attesa da sette anni dal piccolo borgo frazione dell'Aquila, divenuto tristemente simbolo del terremoto dell'aprile 2009, si è festeggiata oggi l'inaugurazione della chiesa di San Pietro Apostolo, restaurata grazie ad una donazione del governo della Repubblica Federale di Germania. Una riapertura simbolo di una riconciliazione. L'intervento tedesco per Onna, infatti, si contrappone idealmente al ricordo della strage compiuta dalle truppe naziste nel giugno del 44, che costò la vita a 18 persone. La chiesa è il centro di una comunità e quando una chiesa ricomincia a vivere, quindi quando si pratica il culto di nuovo, significa che la comunità ricomincia a vivere. E poi va sempre sottolineato che questo progetto è frutto di un impegno della Repubblica Federale tedesca che è stato rispettato al millimetro nei tempi e nella sostanza. Una concreta condivisione tra Onna e tedeschi che ha creato spazi di aggregazione e confronto con la popolazione, da Casa Onna all'Infobox alla Casa della Cultura. Questo è un giorno per noi tedeschi di festa. In primo luogo perché viene ricostruita la chiesa che era stata distrutta dal terremoto, ma perché è anche un segnale di speranza per la rinascita di questo luogo, ma anche di speranza per l'approfondimento delle relazioni italo-tedesche dopo i terribili eventi avvenuti nella Seconda Guerra Mondiale. Sono molto felice che le relazioni italo-tedesche si siano ulteriormente approfondite anche nel corso di questi anni, nel rapporto che si è creato per la ricostruzione della chiesa. Si sono creati dei legami di amicizia che continuano, italiani che hanno imparato il tedesco, tedeschi che hanno imparato l'italiano e continuano anche a farsi visita. Per noi questo è molto importante. Per il caso inquinamento delle acque di Pescara a finire sotto accusa, questa volta è il depuratore di Porta Nuova. L'impianto infatti non sarebbe in grado di smaltire il carico eccessivo di lavoro, essendo progettato solo per 140.000 abitanti. Urge un adeguamento dell'impianto e l'intervento della Regione che ha messo a disposizione i fondi necessari, ma nel 2018. Francesca Romana Testi. Attenzione puntata sul depuratore di Pescara che si inserisce nel tema caldo del momento, il mare inquinato. Se infatti la battaglia aperta da Regione Comune punta a stanare tutti gli scarichi fognari abusivi che sversano sul fiume, la preoccupazione adesso si rivolge alla portata del depuratore, che si trova un carico eccessivo di lavoro da smaltire, causa aumento demografico. Dagli originari 140.000 abitanti per i quali era stato realizzato, oggi invece se ne contano 300.000. Ci sono problemi quando ci sono le piogge, ma questo c'era prima e c'è anche oggi. Si prende comunque atto della saturazione ormai dell'attività depurativa del depuratore di Pescara, che non è più in grado di sopportare i carichi del Comune di Pescara, di Spoltore e di San Giovanni Teatino. E questo in ragione anche del fatto che i sistemi di raccolta delle acque sono miste, acque bianche e acque nere. Una situazione che oggi comincia a diventare un'emergenza e per questo ci sono delle risorse già stanziate dalla Regione Abruzzo, ma la cui utilizzazione è negli anni 2017 e a seguire. Quello che si chiede alla Regione è di anticipare questa disponibilità in modo che già da quest'anno si possa intervenire sul depuratore. Un deposito di alimenti privo dei requisiti igienico-sanitari e totalmente abusivo è stato scoperto e sottoposto a sospensione immediata nella notte a Pescara dai carabinieri del NAS del capoluogo Adriatico. La struttura raccoglieva prodotti da forno provenienti da vari panifici da Abruzzo e Puglia e li distribuiva ai centri della grande distribuzione del pescarese e del chietino, deposito senza le necessarie autorizzazioni. Ed è finito l'anonimato del rapinatore seriale che minacciava le sue vittime impugnando una siringa e dicendosi affetto da IDS. Su ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP del Tribunale di Teramo, Giovanni De Renzi, si è stato arrestato per rapina aggravata Davide Marinucci, trentenne, originario di San Benedetto del Tronto e residente a Colonnella. Al giovane vengono contestate quattro rapine seguite con le stesse modalità in appena cinque giorni. Nei pressi del cimitero di Alba Adriatica i danni di una coppia di giovani all'esterno di un bar di Tortoreto a una donna. Nei confronti di altre due donne, l'una ferma un distributore di benzina di Corropoli e l'altra davanti al bancomat di una banca di Martinsicuro. In tutti i casi i bottini non avevano superato i 50 euro. Forza Italia denuncia il ritardo della regione nello stanziamento per il ripacimento delle spiagge di Pescara. Secondo gli azzurri resterebbero poche settimane per avviare un intervento a cui mancano ancora molti passaggi burocratici. Ripascimento a rischio per Pescara. Due le cause principali. La prima la ridotta disponibilità economica messa a disposizione dalla regione. 80 mila euro per oltre 6 chilometri di costa. Basti pensare che solo lo scorso anno ne erano serviti 300 mila. Ma questo sarebbe il minore dei mali. Spiega infatti Forza Italia non ci sono i tempi. Scade infatti il 31 maggio il termine ultimo per eseguire i lavori. E nel mezzo mancano ancora studi, caratterizzazione, bando ed altre voci che richiedono tempi molto più lunghi. Il fatto che sia tardivo l'intervento determinerà l'impossibilità di realizzarlo perché per via di una ordinanza della stessa regione tutti gli interventi devono essere conclusi entro il 31 maggio. Siamo al 7 di maggio. In 24 giorni dovendo redigere il progetto, acquisire tutti i pareri, conferenze di servizio, appaltare i lavori si capisce perfettamente che non ci sono i tempi più per garantire la realizzazione di un intervento che è importante. Quindi abbiamo il seguente quadro. A nord il divieto di balneazione, a sud non si fa il ripascimento, abbiamo introdotto anche la tassa di soggiorno. Mi pare che l'accoppiata da Alfonso Alessandrini abbia prodotto una miscela esplosiva per la stagione balneare pescarese e quindi anche per la caratterizzazione turistica che questa parte di città ha in modo assolutamente rilevante. L'ennesima dimostrazione di un'approssimazione amministrativa sia da parte della regione, che non è né facile né veloce soprattutto, è di un'amministrazione Alessandrini incapace anche di fungere in qualche modo da stimolo nei confronti della regione. A Roseto degli Abruzzi si scatena la polemica politica sul sondaggio diffuso dalla candidata a sindaco della coalizione, hashtag Amoroseto, che la vedrebbe in vantaggio sul sindaco uscente Enio Pavone. Il centrodestra, che sostiene il primo cittadino, contesta il campione dell'indagine condotta dalla Ipsos. Ascoltiamo. Si scalda ed entra nel vivo la campagna elettorale a Roseto degli Abruzzi. A scatenare polemiche è stato il sondaggio commissionato alla Ipsos da Rosaria Ciancaione, rappresentante della coalizione Amoroseto, che la pone in vantaggio 60-34 rispetto ai principali avversari, primo fra tutti il sindaco uscente Enio Pavone. Un sondaggio però che gli avversari hanno subito contestato perché si baserebbe su una platea abbastanza ristretta. Infatti sono state 598 le interviste su 3.744 contatti, il 16% realizzate mediante il sistema Cati tra il 18 e il 22 di aprile del 2016. I dati diffusi dalla Ciancaione dicono che il 62% dei cittadini di Roseto è convinto che la città nel suo complesso stia andando nella direzione sbagliata e per il 66% dei rosetani il giudizio è negativo sull'amministrazione comunale uscente. La gente di Roseto, quindi il popolo di Roseto e i cittadini di Roseto vogliono cambiare completamente il modo di governare e questo risultato a me fa molto molto piacere soprattutto perché effettivamente è il mio cavallo di battaglia, nel senso io credo che in un'amministrazione profondamente rinnovata, profondamente rinnovata perché credo in un'amministrazione che stia in mezzo alla gente, un'amministrazione che tocchi con mano i problemi e che non stia e non faccia calare dall'alto soprattutto le decisioni. Siamo convinti che il profilo di Rosario sia un profilo di qualità con un progetto e dei candidati nelle liste di qualità. Noi siamo l'unica coalizione che ha tutti i candidati nuovi, nessuno mai di loro è stato in consiglio comunale. Dal canto suo il sindaco Ennio Pavone ha chiuso la lista dei liberal socialisti, 16 nomi che lo affiancheranno nella corsa alla conquista del secondo mandato, tra cui l'attuale vice sindaco e il presidente del consiglio comunale. Noi ci riproponiamo con una coalizione coesa, compatta, che è quella che ha vinto le elezioni nel 2011. Avremo sei liste che compongono questa coalizione, che poi tra l'altro è l'unica vera coalizione in campo in questa campagna elettorale qui a Roseto degli Abruzzi. Abbiamo messo insieme le migliori energie di queste, quelle che sono due liste civiche, sostanzialmente uno che rappresenta la tradizione socialista molto forte in questa città e che ha sempre rappresentato un punto di riferimento a Roseto degli Abruzzi e l'altra che abbiamo realizzato cinque anni fa e che oggi abbiamo messo insieme queste due realtà per avere una lista, secondo noi, molto forte che racchiude tante personalità, già esperti, giovani, attuali amministratori. Il Movimento 5 Stelle presenta una interpellanza al governatore d'Abruzzo in merito alla situazione di Fosso Grande tra Pescara e Spoltore. L'area nei pressi della quale dovrebbe sorgere il nuovo stadio è ancora in attesa dei lavori di messa in sicurezza per le aree colpite dalle sondazioni del 2013. I 5 Stelle presentano un'interpellanza rivolta al presidente della regione Luciano D'Alfonso. Il tema è quello dell'esondazione del canale Fosso Grande di Spoltore-Pescara del 2 dicembre 2013. Da un lato infatti ancora si attende la messa in sicurezza di alcune aree abitate come via Prati, via del Circuito, via l'Abruzzo, via Italia e dall'altra i rappresentanti del Movimento di Spoltore denunciano la scoperta di un progetto che vedrebbe la realizzazione di un impianto sportivo in un'area ancora a rischio idrogeologico. Abbiamo fatto stanziare oltre 400 mila euro per la messa in sicurezza di Fosso Grande purtroppo con quei soldi poi hanno inteso realizzare solamente uno sfalcio delle erbe e una potatura dei rami, quindi per noi un pagliativo non ha risolto il problema qualcuno dice addirittura che l'ha peggiorato noi riteniamo adesso doveroso mettere in atto una serie di interventi strutturali uno, proposta del Movimento 5 Stelle, sicuramente avvalorata anche da tecnici e da professionisti la realizzazione di una vasca di espansione a valle del Ponticello di Via Francia per intenderci quello vicino alla motorizzazione civile due, una realizzazione di una serie di salti idraulici che possono smorzare l'intensità e quindi la potenza delle acque. Attraverso questo progetto voleva ovviamente valorizzare i campi sportivi a spoltore quindi bisogna riprendere il progetto e studiarlo bene mettendo sempre però in prima linea le necessità del cittadino e poi il restante delle necessità del comune che di tutto, insomma il restante della situazione. Agita la politica teramana all'esclusione del progetto di riqualificazione funzionale del teatro romano dalla lista di quelli finanziati dal Ministero dei Beni Culturali. Il sindaco, accusato il PD di scarsa attenzione alla città, ribattono i democratici che addossano la colpa all'amministrazione di centro-destra, ferma allo studio di fattibilità. Alfredo Primante. Era stato il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchia, a chiamare in causa il Partito Democratico e l'Associazione Teramo Nostra sulla vicenda del teatro romano e del taglio dei finanziamenti operato dal Ministero dei Beni Culturali guidato da Dario Franceschini. Secondo il primo cittadino i rappresentanti locali del Partito Democratico non si sarebbero indignati a seguito della esclusione del progetto di riqualificazione del teatro romano Teramano dal miliardo di euro che il governo ha messo in campo nel piano strategico di turismo e cultura. Il sindaco aveva anche dichiarato di avere tutta la documentazione necessaria e uno studio di fattibilità pronto ma di non aver dato corso al progetto esecutivo per l'incertezza sul finanziamento delle opere. La stoccata ovviamente ha provocato la risposta del PD che rimbalza la responsabilità per una vicenda che va avanti da anni. In questa occasione non si è perso un finanziamento. La verità è che il sindaco Brucchi e l'amministrazione comunale di Teramo non hanno creato le condizioni per ottenere il finanziamento per il recupero funzionale del teatro romano. Per un dato molto semplice, perché non ha presentato alcun progetto al ministero ma non lo ha presentato perché il progetto dopo tutti questi anni ancora non c'è. Non solo non c'è un progetto esecutivo ma non c'è un progetto preliminare, neppure preliminare. Siamo uno studio di fattibilità, quindi una fase decisamente embrionale. Ormai sono sei anni da quando il Consiglio Comunale ha approvato lo studio di fattibilità. Infatti io trovo anche molto bizzarro il fatto che in queste ore il sindaco si stia lamentando di non aver ricevuto una telefonata da parte del ministro. Io non credo che Franceschini abbia chiamato gli altri sindaci per indicare loro l'iter burocratico che si doveva seguire. La realtà è una sola. Chi si è scordato veramente di Teramo è Brucchi. Concertare tra i diversi soggetti istituzionali pubblici e privati progetti per la riqualificazione dell'area urbana di Mociano Stazione è stato il tema del convegno svoltosi ieri pomeriggio al Blue Palace Business Center di Mociano dal titolo Mociano Stazione, riqualificazione e proposte di sviluppo. Organizzato da Confindustria Teramo con il patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Mociano Sant'Angelo e del Lance di Teramo. L'area di Mociano Stazione comprende il nodo infrastrutturale di livello nazionale costituito dalla diramazione tra l'autostrada A14, la trasversale per Roma A24 e le infrastrutture storiche costituite dalla statale 80, dalla parallela linea ferroviaria Giulianova-Teramo e dalle diramazioni locali per il capoluogo di Mociano e per Notaresco. Negli ultimi 30 anni, a margine del sistema infrastrutturale principale, si è sviluppata la rete viaria di supporto del sistema insediativo prevalentemente produttivo. Lo Stato di fatto evidenzia che negli anni passati l'area non è riuscita a cogliere le opportunità capaci di innescare quei processi di trasformazione e soprattutto di qualificazione dell'edificato. Sia il tessuto edilizio produttivo commerciale che l'insieme degli spazi pubblici presentano la necessità di riorganizzazione sia sotto l'aspetto funzionale che distributivo. E da diversi anni il WWF Abruzzo, insieme a numerosi gruppi volontari, porta avanti iniziative a tutela del fratino, il piccolo uccello nidificante anche nelle spiagge della nostra regione, tutelato da normative comunitarie e nazionali. Domani, domenica 8 maggio, a Pescara si avvierà il censimento della specie per l'anno 2016. Per quest'anno è stata delimitata un'area nella zona di Albadriatica di 3.000 metri quadrati dedicata proprio al fratino e al giglio di mare e si sta lavorando perché il progetto possa migliorare. Sono state mandate delle linee guida a tutte le amministrazioni comunali della costa abruzzese e due amministrazioni, tra cui quella di Giulianova e Pineto, hanno accolto positivamente le nostre linee guida e sono state adottate in delibera di giunta e nel loro regolamento comunale, aiutandoci anche alla tutela della specie. Domenica mattina, dalle 8 e mezza in poi, ripristineremo l'area di protezione con la recinzione intorno alla zona della Madonnina dei nidi per il fratino. In pratica sarà ripristinata quella piccola barriera che viene montata ogni anno per salvaguardare i nidi di questo preziosissimo uccello a livello europeo, a livello mondiale, un uccello protetto dalle normative internazionali. Il fratino è fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente perché è un segnale, io direi quasi una specie ombrello perché proteggendo il fratino si protegge anche la vegetazione d'unale. Nasce a Pescara per iniziativa della lista Teodoro Parti Pari, l'associazione che dà sostegno alle fasce più deboli della società. Paolo Renzetti. Consigliere Pignoli, è nata un'associazione, si chiama Patti Pari, che avete presentato a Palazzo di Città. Di cosa si tratta? Beh sì, questa è un'associazione a me vicina e cara che si è formata da qualche settimana, che intende aiutare le persone bisognose. Voi sapete che la mia azione amministrativa, ormai da 7-8 anni che vivo l'attività amministrativa comunale, si è sempre basata sull'aspetto dell'aiuto alle persone bisognose. Vuoi per la ricerca di un'occupazione, vuoi per il pagamento di bollette, vuoi per quanto riguarda fare domande per case popolari e quant'altro. Noi abbiamo ritenuto, questi miei amici hanno ritenuto fondare questa associazione con un vicepresidente, un avvocato, psicologi e quant'altro, perché ci siamo resi conto, mi sono reso conto in particolare ricevendo decine e decine di persone al giorno, che c'è molta difficoltà da parte delle persone di orientarsi in questo mondo finalizzato praticamente dalla pubblica amministrazione. Per cui ci sarà questa associazione a disposizione il venerdì presso il mio gruppo consigliare, che darà dei consigli anche su questioni di diritto penale, di maltrattamenti in famiglia, sia per uomini che per donne, perché lo stalking purtroppo non è diventato solo a discapare delle donne, ma anche degli uomini. Per cui ritengo che questa associazione faccia del bene nella città di Pescara, dove c'è veramente difficoltà, anche e soprattutto sotto questo punto di vista sociale. Passiamo ora alla pagina sportiva. La partita è difficile, dobbiamo prestare attenzione alle ripartenze del Lanciano. L'allenatore del Pescara Massimo Oddo presenta così il derby di domani pomeriggio. Rinviato e rientro di Crescenzi, sarà Zuparic a giocare al centro della difesa con Forna Siebben, lì favorito su Pasquato per un posto nel tridente. Andrea Costantini. Prima della partita ieri, se avessimo fatto nove punti, sarebbe stato sicuro quantomeno il quarto posto. Quindi noi dobbiamo badare a quello, non dobbiamo guardare le altre, dobbiamo fare il maggior numero di punti possibile, perché il nostro obiettivo a questo punto è inevitabilmente provare ad entrare come terza. Io ero convinto del fatto che a loro servisse solo la vittoria e quindi una partita venissero qui a fare una partita per vincere. Da qualche dichiarazione ho letto che potrebbe anche essere importante per loro portare via un punto. Non so fino a che punto possa essere utile, però vediamo. Ma noi siamo abituati a questo tipo di partite, abbiamo lavorato in settimana per affrontare al meglio queste situazioni e vedremo se i ragazzi hanno ricepito e se sapremo farlo in campo. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che sia una partita semplice, perché semplice assolutamente non lo sarà. È una squadra che se non avesse avuto i punti di penalizzazione sarebbe salva, avrebbe tanti punti e quindi dimostrazione del fatto che è una squadra di valore, che ha giovani molto interessanti, anziani comunque che danno un bel contributo e sono una squadra pericolosa, soprattutto nelle ripartenze. Il fattore ambientale solitamente è determinante e può darsi una grossa spinta. E' una di quelle caratteristiche che fanno sì che una squadra possa rendere di più, certamente. Anche se è un pari. Ecco, stavo dicendo quello. Poi alla fine in campo ci vanno i ragazzi e le reazioni possono essere di vario tipo. Sono convinto che uno stadio che ti spinge, uno stadio pieno che ti spinge, crea un'atmosfera, un entusiasmo, un ambiente completamente diverso ed può essere un'ulteriore spinta determinante per creare dell'alto morale nei ragazzi. Dubbio a Marilungo sul fronte Virtus Lanciano, l'attaccante alle prese con un fastidio muscolare. I dubbi saranno sciolti in estremis anche se il giocatore è stato convocato. Recuperato invece il centravanti Ferrari. Grara fondamentale per i rossoneri che si giocano a questo punto una piccola fetta di salvezza. Un pezzo dell'eventuale permanenza in Serie B della Virtus Lanciano passa per il derby di domani all'Adriatico Cornacchia contro il Pescara. Nel centro Frentano c'è grande fermento, nella norma, nelle giornate antecedenti il confronto con il Pescara. Ancora di più se si ha la consapevolezza che questa partita possa valere quasi una stagione. Dopo questa terz'ultima giornata si capirà se la Virtus Lanciano avrà ancora speranze di salvezza diretta o se il play-out sarà la strada più concreta per ottenerla. Non meno importante è la partita che poi si giocherà in settimana davanti alla Corte Federale d'Appello quando il pool di Legali, guidato dall'Avvocato Edoardo Chiacchio, cercherà di avere uno sconto sulla penalizzazione di 5 punti inflitta in primo grado dal TFN. Ma di questo si tornerà a parlare dopo il derby, per il quale il principale grattacapo che affligge il tecnico Primo Maragliulo è la presenza di Guido Marilungo. L'attaccante sta facendo i conti con dei fastidi muscolari che lo hanno costretto ad un lavoro differenziato nelle ultime sedute e il suo recupero non appare così certo. Un'assenza che potrebbe pesare vista la bravura dell'ex Cesenate nel cucire il gioco tra mediana e attacco. D'altro canto Ferrari ha assorbito il risentimento muscolare, è tornato da ieri in gruppo e domani ci sarà. Se Marilungo non dovesse farcela, Maragliulo potrebbe inserire Rocca in mediana con Vitale e Bacinovic e con Vastola ancora di più nel ruolo di guastatore. Difesa fatta con Rigione al posto dello sporificato Amenta, una difesa peraltro infarcita di ex, visto che gli altri tre che la comporranno hanno trascorsi in biancazzurro, dal capitano Antonio Aquilanti a Luca Di Matteo, quest'ultimo pescarese Doc. Entrambi hanno fatto la trafila nelle giovanili del Pescara, fino al debutto nei pro con la prima squadra. E fino a Salviato in biancazzurro tra gennaio e giugno del 2014. L'ex più rimpianto in rival adriatico però è Federico Di Francesco, che proprio a Lanciano è esploso, ma che a Pescara, dopo la trafila delle giovanili, ha debuttato in Serie A nel 2013. Dimostrare alla dirigenza biancazzurra una volta di più che ci fu un errore di valutazione sul suo conto sarà una ulteriore spinta al fine di essere decisivo per i colori rossoneri. Tra gli altri tanti ex non saranno della partita il portiere Ariguità e il difensore Boldor. In Lega Pro, invece, vigilia dell'ultima giornata di campionato, il Teramo chiuderà la sua stagione domani alle 18 sul campo del Ponte d'Era, ma nella classica conferenza pre-gara a tenere banco è il tema della permanenza in bianco-rosso del tecnico Vincenzo Vivarini. Sentiamo cosa ha detto nel servizio l'allenatore del Teramo. Adesso si parla dell'aspetto economico. Io in questi tre anni il contratto a Teramo non l'ho mai fatto io. Adesso il problema pare che sia quello economico, ma è sempre stato il Presidente che mi ha proposto. E' bene o male anche perché non è che puoi stare troppo a sindacare quello che lui ti offre. Io ho cercato in questi anni di chiedere solo l'aspetto dei premi, che poi mi sono sempre guadagnato, quindi ho avuto un po' di fortuna anche in questo. Però ci sta e va bene. Adesso è chiaro che io la prima situazione che ho è il Teramo, perché comunque sono sotto contratto e sto analizzando, sto capendo se effettivamente ci sono i presupposti per rimanere, ma non sotto l'aspetto economico. Perché io quando sono arrivato a Teramo, ho parlato con il Direttore, lui mi ha esposto nei minimi particolari, il progetto tecnico, tutte le cose da fare. Il contratto non ci ho manco pensato. Ho sposato sicuramente quel progetto che era molto molto valido, tanto è vero che lo si è dimostrato. In questo momento qua, Teramo, mi dicono che devo dare delle risposte, però io se non vedo come viene programmata la stagione, che risposte devo dare? Sotto l'aspetto economico, ripeto, non sono io sicuramente a ragionare come è sempre successo negli altri anni. Perché comunque il Direttore sportivo non ci sta. Io parlo con due o tre Direttori sportivi, cioè non lo so chi è, ufficializziamo, vediamo che idee c'ha. Adesso è un momento che giustamente, perché non è Teramo, penso che tutte le squadre in questo momento qui hanno finito una stagione e quindi si dovrà riorganizzare e si vedrà, insomma. Penso che ci vorrà tempo. Fuori dalle mura amiche, in casa della Lupa Roma, l'Aquila Calcio giocherà l'ultima di campionato prima dei play-out. Gianmarco Menga. Si chiude ad Aprilia, contro la Lupa Roma, il campionato dell'Aquila Calcio. Sarà in realtà solo l'inizio di un maggio di fuoco, che porterà il rosso-blu a giocarsi la Lega Pro ai play-out. Solo dopo i risultati delle dirette concorrenti, si saprà l'avversaria degli spareggi, anche se è sempre più probabile che sia una tra Rimini e Prato. L'Aquila arriva all'appuntamento in terra laziale dopo una settimana in cui è successo di tutto e di più, dall'esonero clamoroso di Giacomo Modica, dopo soli 20 giorni dal suo insediamento in panchina, fino al ritorno di Carlo Perrone, che però ha voluto stavolta al suo fianco un'altra vecchia conoscenza del calcio rosso-blu. Carlo Susini, ex tecnico dell'Aquila ai tempi dell'eccellenza, è tornato per fare da consulente tecnico con l'obiettivo di ricompattare un ambiente sull'orlo di una crisi di nervi. A questo aggiungiamo tensioni in allenamento che si sono verificate tra alcuni giocatori ad inizio settimana. I tifosi, intanto, stanno provando a mettere da parte rancori e polemiche per provare a sostenere un'ultima volta la squadra di Perrone. Per i processi ci sarà tempo dopo gli spareggi, ora è quanto mai fondamentale giocarsi con tutte le forze la permanenza in Lega Pro, raggiunta negli anni passati con grande fatica dopo stagioni nel dilettantismo. Per prepararsi alle due partite da vita o morte i rosso-blu devono intanto provare a riconquistare un po' di fiducia in loro stessi proprio domenica contro la Lupa Roma. Dal punto di vista della classifica basterà non perdere con più di un gol di scarto per evitare la beffa di essere scavalcati proprio dai laziali e terminare il campionato non più al terz'ultimo bensì al penultimo posto. Sul fronte formazione Perrone potrebbe optare per la conferma della difesa 4 forgiata dalla brevissima gestione modica. Tra l'altro, proprio in difesa, il tecnico romano avrà due defezioni importanti Nicola Cosentini per squalifica e Giordano Maccarrone per i problemi alla schiena che lo hanno messo KO contro la Lucchese. Potrebbe invece tornare almeno in panchina Emanuele Pesoli che in settimana si è allenato con la squadra. Mancherà invece in attacco Salvatore San Domenico squalificato per tre turni dopo l'espulsione di domenica scorsa. La società ha deciso di non fare ricorso dunque per San Domenico capocannoniere dei Rosso Blu con 13 reti la stagione e l'esperienza in Maglia Aquilana si possono già definire concluse. L'Aquila dovrà quindi provare a salvarsi senza i guizzi dell'attaccante Campano. Lasciamo il calcio torna a Teramo anche quest'anno l'appuntamento con l'evento dedicato al vigile del fuoco Teramano scomparso nel 2010. L'appuntamento è per domani con la sesta edizione del Memorial Darwin Lupinetti. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento in ricordo di Darwin Lupinetti il vigile del fuoco di Teramo scomparso a soli 36 anni. Appuntamento domenica 8 maggio con il sesto Memorial. Sì, certamente ogni anno i vigili del fuoco sono talmente attaccati a questo ricordo della figura di Darwin Lupinetti che sistematicamente dedicano una giornata alla memoria di questo grande vigile del fuoco e con l'occasione il nostro dipartimento ci accorda anche l'organizzazione del campionato nazionale di ciclismo su strada per vigili del fuoco quest'anno è la ventisettesima edizione che vede in particolare Teramo un po' al centro dell'Italia perché sono quasi 350-400 atleti diciamo tra vigili del fuoco e anche amatori che ovviamente in quella giornata anche dal giorno prima potranno ammirare non solo come dire le bellezze del Teramano ma anche come vedete un'organizzazione che anche quest'anno come dire è all'altezza e all'altezza degli scorsi anni anzi forse abbiamo migliorato abbiamo migliorato ulteriormente. Si partirà qui la mattina verso le 8.30 faremo questo percorso che si articolerà su un centinaio di chilometri con un'ascesa fino a 1225 metri in località Piano Roseto dove vi sarà un gran premio della montagna da lì ci rimetteremo sulle valli del Teramano per tornare qui davanti alla caserma sul viale antistante dell'ingresso dove ci sarà il traguardo per quanto riguarda il post gara è stato allestito questa sorta di villaggio all'interno della nostra caserma dove cercheremo di alleviare le fatiche degli atleti con un ristoro Il Festival dei Due Parchi in collaborazione con Comune e altre associazioni organizza il primo MTB dei Due Parchi manifestazione sportiva ciclistica e mountain bike con percorso competitivo e cicloturistico vediamo Al Via Civitella è il primo mountain bike trail dei due parchi appuntamento domenica 8 maggio a Villa Lempa di Civitella con un percorso competitivo e cicloturistico di 31 chilometri Questa è un'occasione sia per gli appassionati che vogliono divertirsi quel giorno ma anche per il Comune per far riscoprire il territorio infatti si tratta di un percorso molto molto bello che ripeto parte da Villa Lempa arriva alle casermette quindi attraverserà il bosco il fiume Salinello insomma molto molto bello dal punto di vista ambientale dal punto di vista territoriale quindi noi ci teniamo particolarmente a rivalorizzare questi antichi trattori utilizzati dai nostri avi e questa volta abbiamo sviluppato un discorso con le mountain bike perché è anche una storia antica quella della bicicletta poi ci sarà il prossimo il 2 giugno per il secondo ecotrail dei Calanchi a Polesia sempre a partenza dalle 9 e mezza e poi dopo ci sarà anche del 31 luglio il quinto ecotrail dei due parchi in memoria Renata Farberziani e poi ci sarà ancora ad agosto il 27 il terzo per legrinaggio interculturale del Buon Pastore e poi ancora faremo il secondo memorial Gabriele Sorgi a Civitella del Tronto il 2 ottobre e poi ancora ci sarà il secondo ecotrail di Montesanto Memorial Menarianea e infine il 12 di dicembre la sesta maratina della Nosa quindi insomma abbiamo un calendario ricco di eventi ed è tutto per oggi grazie per l'attenzione buonanotte e buon weekend grazie per l'attenzione